le figlie che sono approdate sulla terra ma io vorrei andare ancora un attimo alla zia però alla sirena regina che le ha precedute mi sembra di aver capito Ornella Muti tu hai lasciato prima il mondo delle sirene per stabilirti sulla terra a Miami poi si vabbè Ingrid era più grande ha più di 400 anni però però ti porti benissimo grazie dunque lei si è totalmente stufata di questo che lei trova non proprio l'identissimo gofo di Napoli anche perché ha una cugina si rimetta che qui hanno fatto una statua insomma lei si sente un po' al disagio vorrebbe fare uno step di crescita e se ne va a Miami però torna appena sempre ecco come la incontriamo come si incrocia poi con beh perché lei ha i suoi premonitori che le avvertono che la famiglia Maria Pia sta combinando dei guai mettendo a rischio chiaramente perché proprio parlando della diversità semmai le sgamassero le farebbero a pezzettino in questo c'è chi rischia devo dire sentiamo la lettina la mattina dell'eco è un'altra è una domanda sè di un'altra domanda